Ben trovati. Dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia e in questo lungo in cui siamo precipitati il nostro malgrado, i 100 grammatini russi ritornano all'agropoli. La compagnia teatrale del paese di Murazie torna con una nuova commedia, sempre in italiana e lingua occidentale, la classe un'eleganza, una nuova commedia. E ritornano sul palcoscenico del teatro di Filippo Diagropoli il 22 aprile alla Venti e la Venti in Paracicini e vi invitiamo a partecipare all'assistere allo spettacolo. Ci sono due buoni motivi. Il primo e il più importante è perché la manifestazione, la serata, la rappresentazione è in onore dell'amico Mauro Inverso, il ricordo del bambiante ingegnere Mauro Inverso, già vice sindaco di Agropoli e sindaco delle comuni di Occhi. L'altro buon motivo naturalmente è perché l'incasso della serata sarà deboluto alla comunità educativa di affitto familiare del Germoglio con sede in Agropoli che può in essere da un'attività territoria a favore del territorio naturalmente e che è una delle comunità, una delle strutture indicate anche dalla Prefettura per accogliere i bambini ucraini in fuga dalla guerra, come tutti sapete. E quindi va per un applauso da parte di tutti noi. Il suo motivo naturalmente è di passare una bella serata in nostra compagnia con delle risate, il buon umore attraverso sfumi di riflessione su tematiche di stretta attualità, così come il nostro costume e come capita sempre quando colpiamo in scena i nostri lavori teatrali. Vi aspettiamo numerosi. Allora, venerdì 22 aprile, ore 20.45, Cinepeato e Luardo di Filippo Agropoli. Vi aspettiamo numerosi. Grazie. Grazie.